Gli uomini di Walter Novellino sono tornati in campo in vista del derby di sabato a Salerno. Sessione piuttosto blanda per i biancoverdi che di fatto sono stati divisi in due gruppi. Sul campo sono rientrati i calciatori che non erano stati del match nell'ultima sfida interna con il Bari. In palestra invece sono rimasti i titolari. I primi hanno svolto un leggero allenamento culminato sul finale con una divertente sessione di tirera lontano nella quale, a dirla tutta, sono stati in pochi a spiccare. Differenziato per gli altri, come detto, sul terreno di gioco per una corsetta si sono visti Migliorini, Ardemagni e Castaldo. Ancora Out, Gonzales, Belloni e Gavazzi. Tutti e tre resteranno fuori fino a fine stagione. Gonzales infatti non ce la farà nemmeno per l'ultima gara con Illatina. Per rimediare problemi a destra Novellino sta approvando anche l'ASIC, l'uomo utile per avere un'alternativa in una posizione di campo decisamente strategica. D'ora in poi si proseguirà la preparazione a torrette a porte chiuse con la solita parola d'ordine che ancora una volta sembra essere concentrazione.